Che cosa stava succedendo nell'aula che abbiamo osservato? C'era uno studente che presentava agli altri un proprio elaborato. Gli altri studenti cercavano di capire, osservandolo, qual è il modo migliore per fare una presentazione, magari anche tenendo conto dei feedback che arrivavano dal docente. Ci trovevamo in un set classico di cosiddetto social learning. Per capire meglio che cos'è il social learning, possiamo farci aiutare da Bobo. Qualcuno lo conosce già? Bobo è stato un soggetto fondamentale nella ricerca sul social learning. È infatti stato lo strumento utilizzato da Bandura, un importante pedagogista americano, per i suoi esperimenti sull'apprendimento legato all'osservazione e all'imitazione nel proprio contesto sociale. In che cosa consisteva l'esperimento? Bandura aveva diviso dei bambini in tre gruppi. Un gruppo si trovava in una stanza con Bobo a grandezza naturale e un adulto che maltrattava Bobo. Un altro gruppo si trovava invece in un'altra stanza, sempre con Bobo a grandezza naturale, ma un adulto che giocava senza fare particolare caso a Bobo, il terzo gruppo invece si trovava in un'altra stanza con Bobo a grandezza naturale, senza nessun adulto che proponesse un comportamento da osservare. Che cosa ha osservato Bandura nelle fasi successive? Una volta messi in condizione di agire liberamente senza la presenza di adulti, i bambini che erano stati esposti a un comportamento aggressivo contro il povero Bobo si comportavano con maggiore frequenza rispetto agli altri in modo aggressivo. Da lì Bandura ha dedotto tutta una serie di considerazioni su come l'ambiente finisce per modellare il comportamento attraverso processi di apprendimento basati sull'osservazione e sull'imitazione. Bandura è stato anche molto criticato per una certa visione un poco meccanicistica della relazione tra comportamento e ambiente, ma al di là di queste considerazioni a noi interessa trarre spunto da lui in termini di modello pedagogico suggerito da social learning. In questo modello pedagogico il processo di apprendimento viene innescato dall'osservazione, quindi come nell'aula che osservavamo prima dovremmo creare dei contesti in cui qualche studente agisce, compie un'azione che viene esposta alla visione da parte degli altri che possano quindi osservarla con particolare attenzione. Naturalmente il soggetto ad osservare può essere anche qualcuno che viene dall'esterno della nostra aula, un esperto, un professionista, ma il social learning ci fa notare che l'apprendimento per osservazione e imitazione è generalmente più efficace quando il soggetto osservato è in qualche modo simile a noi, perché questo favorisce dei processi di identificazione nel soggetto che andiamo ad osservare. La fase successiva è quella dell'interiorizzazione e riflessione, cioè quella in cui il docente sollecita gli studenti a ragionare, magari in piccoli gruppi, sull'osservazione che hanno compiuto. Quali sono i punti di forza? Quali i punti di debolezza? Quali sono gli elementi significativi che potrebbe valer la pena di imitare? In questa dinamica di interiorizzazione e di riflessione possono entrare, oltre che l'osservazione della prestazione, anche i feedback che il docente o altri esperti hanno dato contestualmente a chi svolgeva la performance. È una sorta di rinforzo positivo o negativo indiretto, quindi un po' diverso da quello dei comportamentisti, perché richiede una forma di identificazione con il soggetto osservato. La fase successiva è quella della concettualizzazione astratta, quindi ho osservato, ho ragionato su quello che ho osservato, provo a dedurne un modello. Quali sono le regole d'oro per? Qual è il modo migliore per compiere questa azione? Qual è la metodologia più appropriata per? E, infine, la fase dell'applicazione di quanto concettualizzato in modo più astratto. Quindi, vedete, anche in questo caso il punto di innesco è quello dell'osservazione di una dinamica, ma importantissime sono le fasi attraverso le quali si va oltre quello che si è osservato e si cerca di andare a ricostruire il background teorico che sta dietro a quella prestazione in modo da rendere l'apprendimento, attraverso l'osservazione, più efficace in quanto mediato da una riflessione e da una concettualizzazione astratta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti